Armando Perna, reduce da una stagione al Padova, sei rimasto chiaramente coinvolto nel fallimento del Padova, adesso ti trovi senza squadra e come vivi questa situazione? No, è la mia prima esperienza, è la prima volta che mi succede. Sono stato coinvolto dopo questa ultima stagione al Padova, per cause forse non semplici, sono rimasto fuori sei mesi perché ero fuori lista, poi è successa la retrocessione, il fallimento, quindi un po' di problemi. Mi è dispiaciuto soprattutto non poter dare la mano ai miei compagni negli ultimi sei mesi per cercare questo, per evitare questo fallimento. La consideri una stagione persa praticamente? Sì, la considero una stagione persa perché non mi era mai successo di fare dieci partite su 42, sempre fatto 38-39 partite, quindi una stagione per me nuova, un'esperienza che magari mi ha trasmesso determinate cose importanti per un futuro. Adesso come guardi al futuro, quali sono le prospettive? Le prospettive sono allenarsi bene, farsi trovare pronto se dovesse arrivare una chiamata, quindi stare sempre sul pezzo perché è importante trarne dei benefici dagli errori del passato. Quali sono per adesso i contatti che ci sono stati? Squadra di categoria, quindi Serie B, che sarebbe la cosa più importante, mantenere la categoria e qualche Lega Pro che sia fatta sotto magari con più pressione. Guardando un po' indietro, il Livorno è uno dei club a cui sei più legato? No, no, nel passato il Livorno è stato recente, ma ho la possibilità di debuttare in Serie B, credo che il club a cui sono più legato è il Modena, dove sono stato nove anni, dove sono cresciuto sia calcisticamente che anche umanamente. In particolare, quali sono i momenti più belli vissuti al Modena? I momenti più belli sono stati i play-off i primi due anni, dove per un punto abbiamo perso la Serie A, delle salvezze credo che inizialmente erano impossibili come quella con Napoloni in panchina, però è stata una squadra che mi ha trasmesso forte emozioni e soprattutto mi ha dato la possibilità di fermarmi in una città dove vivo bene.